Pronto, mangiate! Allora, come si chiama lei? Mi chiamo Claudia E di dove sei? Sono di Ferrara Emilia Romagna, in Italia E per quanto tempo è che stai qui? Oh, starò qui ancora per un anno e mezzo She's going to be here for another year and a half How old were you when you came? Oh, quanti anni avevo? Oh, 34 Allora, nata e vissuta, born and raised in Italy Sì, sì, I'm Italian 100% E questa è la prima volta che hai assaggiato il sugo, no? Sì, completamente And this is the second taste The second helping, oh my goodness So you like this, it's good, right? Sì, assolutamente What does it remind you of? Oh, ricorda quello che faccio anch'io a casa That you make at home, right? È veramente naturale È molto delicato È molto delicato Very delicate Senza zucchero Poco sale Olio buono The good olive oil Right? Un po' di basilico Si, ma non troppo Si mette il basilico da voi? Sì, 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 sì Non troppo ma si mette, sì Non l'origano Noi non usiamo l'origano No, neanche io Neanche io We don't use oregano Ok? E poi noi non usiamo il pepe nero Non so? No, neanche io Solo sacco No black pepper No, no But bene Asimenti Thank you Claudia, grazie And your husband is here in the Yes As an exchange Is the Italian Exchange Officer at Naval Academy The Naval Academy Yes Here in Annapolis Si Il istruttore Il instructor Claudia, grazie Thank you very much Ciao Ciao Ciao